Musica Riaprono da oggi centri estetici, parrucchieri e barbieri che denunciano mancato sostegno da parte delle istituzioni durante la zona rossa. A Torre del Greco si riparte con fiducia, confidando nel senso di responsabilità dei cittadini i maggiori controlli. Oggi si riparte con molta agitazione perché comunque questi ultimi 40 giorni sono stati difficili per tutti noi perché non siamo stati neanche tanto aiutati, però si riparte con tanta fiducia. Crede che sia una riapertura definitiva a questo punto o c'è il rischio che magari si possa ritornare nuovamente indietro? Non sono certa che questa possa essere una riapertura definitiva perché ho perso un po' le speranze, visto che io comunque sono la titolare di un negozio che ha aperto l'anno scorso l'8 marzo ed è stato chiuso il 9. Tre mesi di chiusura abbiamo riaperto a maggio per poi fare grandi sacrifici per poter recuperare e poi questa nuova chiusura ci ha completamente buttato giù. Dobbiamo essere noi attenti perché noi nei negozi siamo stati chiusi ingiustamente perché noi nelle nostre attività riusciamo a mantenere la distanza e a mantenere la sanificazione continua e il rispetto per le regole. Quindi io credo che si debba guardare un po' più all'esterno che all'interno. Quali sono stati i supporti da parte dello Stato in queste settimane di chiusura? Sono stati praticamente zero. Io ho due negozi, questo e l'altro che sta più al centro, che comunque non ha ricevuto neanche un euro. Cosa si aspetta dalle prossime settimane? Mi aspetto un po' per tutti che ci sia un po' più di tranquillità e serenità perché veramente questo virus ci ha praticamente cambiati e faccio gli auguri a tutti i commercianti e gli artigiani che come me vivono alla giornata. Come sono state queste settimane senza dubbio difficili? Le settimane sono state difficili perché non abbiamo avuto un supporto economico. Abbiamo dovuto continuare a pagare le spese che ci sono per la gestione e logicamente è stata difficoltosa. Spera che questi supporti possano arrivare nei prossimi mesi? Più che un supporto spererei di un rilancio dell'economia perché diciamo in quanto imprenditore a me fa piacere che possano far sviluppare l'economia in senso totale perché i supporti relativi, quello di dare dei finanziamenti, meglio dare lavoro a tutti per poter far sì che l'economia riparta nel modo giusto. Chiusure che hanno incentivato l'abusivismo? Sì, in realtà è stato proprio questo il problema perché le attività professionali sono state chiuse e l'abusivismo è stato ancora più dilagante. Logicamente non si può far sì che si penalizzano i canali ufficiali, cioè le attività ufficiali a favore di questi abusivi. Lei è fiducioso per le prossime settimane? Lo spirito dell'imprenditore è sempre positivo, nel senso che non può essere un imprenditore se non ha lo spirito che vada tutto bene, questo è proprio sicuro perché se no non si può proprio intraprendere nessun tipo di attività.